salve a tutti i ragazzi e amici del mare guardate che cosa è uscita con questa piccola cannetta il coreano in una zona di misto quale al monte bellissima ero a pescare con i bambini e praticamente abboccato sulla cannetta mio nipote federico guardate che cosa che bellissima spicola guardate che bella ti levati ma che meraviglia spettacolare una bellissima spicola che è caduta sul coreano bellissima che meraviglia bellissima ragazzi stupenda una bella spicola veramente l'abbiamo pescata qui purtroppo non ho con me non avevo con me la calma perché avevo lasciato a mia moglie ho detto a mio figlio ferdinando di di portarmi il telefono è venuto subito l'abbiamo presa in questa zona di misto qua c'è un po di posidonia ho lanciato tra l'altro con cannetta con la bombarda davvero una bellissima spigola questa è una piccola canna che avevo comprato per mio figlio ferdinando in realtà è da bolentino però non potendo lanciare con una con una con una quattro metri avevo preso questa cannetta con la bombarda era il turno di mio nipote ed è uscito questa meraviglia guardate che bello la faccio vedere ancora spettacolare una bellissima spigola e niente adesso ci riproviamo chissà magari prendiamo qualche altra cosa guardate che meraviglia guardate che bello guardate che bello guardate che bello